Tra i diversi progetti dell'Università di Salerno presenti a futuro remoto c'è l'Arca di Noè. Ci dice qualcosa in più? L'Arca di Noè è una mostra di manufatti archeologici che si connette ad uno spazio temporale ampio che va dall'età antica fino all'età moderna e contemporanea. Quindi attraverso l'esposizione dei pezzi del Museo archeologico provinciale unitamente a quelli che vengono dal Museo di Villa Guariglia e dal Museo del Castello di Salerno sono stati scelti dei pezzi di età contemporanea realizzati da autori di età contemporanea che utilizzano l'iconografia animale attingendo dal mondo antico. La mostra ha un doppio binario perché unisce in connessione la parte umanistica con la parte scientifica e tecnica per la quale poi ci siamo abbinati con il professore Parente e con la collega Angela Peduto. Allora noi come parte informatica abbiamo approfittando della parola connessioni dell'edizione di Futuro Remoto 2017 abbiamo curato la connessione spaziale mentre loro hanno curato la connessione temporale quindi hanno coperto temporalmente dall'antichità, da due mila anni diciamo. Noi contiamo, abbiamo un orizzonto un po' più stretto. Comunque invece noi ci siamo interessati della connessione spaziale. Cioè la nostra app è innovativa perché è semplice, perché noi siamo convinti che la tecnologia deve essere di ausilio alla nostra vita quotidiana. Invece spesso, come accade spesso, delle volte di impedimento allo svolgimento della nostra vita quotidiana. Quindi la particolarità della nostra app è che il visitatore del museo, il visitatore della mostra di questi reperti archeologici, con una semplicità estrema, con l'app che noi abbiamo creato va estrema davvero. Quindi non si riesce a connettere a questi manufatti. Il dettaglio tecnico di queste cose la vorrei usare da dottoressa Peduto. Sì, in particolare diciamo sempre in tema di connessione, noi siamo connessi con la scuola, quindi università e scuola, perché abbiamo utilizzato un linguaggio scratch molto semplice che abbiamo anche insegnato ai ragazzi che hanno lavorato con noi e abbiamo fatto delle favole multimediali basandoci sui loro disegni e diciamo sono stati i primi collaudatori, per questo siamo sicuri che è molto semplice e fruibile. Per chiudere il tutto, l'importanza di partecipare a una manifestazione come Futuro Remoto? L'importanza per noi, vabbè prima di tutto è un onore essere qui e partecipare, ma non penso che è la prima volta che l'Università di Salerno partecipa per me, invece è la prima volta forse anche per te. E l'importanza era appunto aver centrato questo tema di Futuro Remoto nel quale noi ci sentiamo pienamente messi, focalizzati su questa cosa, connessi, connessi completamente con l'aggettivo semplice, io ci tengo, perché vorrei che veramente la tecnologia ci semplificasse la vita. Grazie a tutti!